www.feyyaz.tv Hai capito? Guarda come devi fare. Devi mettere un dito qui e quest'altro qui. E poi basta che soffi. Prova un po'? Brava c'è insumina! Allora, vienemi dietro. Un, due. Cosa che sei, San Panò? Che stai lavorando? Io ho godito mi. Lei lavora solo con me. John John! Scusate, ma non vi capisco. Io vi ho cercato, eravate in città, sennò ve lo gavaria dito prima. Cosa che sei del male? Si lavora tutti quanti insieme. Con quello lì non lavora. John John! Senti, tu la piaccia. Ah, io con te non parlo, eh? L'ha detto te che non devo parlare e io non parlo. Gerson, va di là da mia moglie, adesso che parlo mi. Ma voi... Gerson, va di là da mia moglie, adesso che vedo un'altra volta vicino a questo... Gerson, va di là da mia moglie. San Panò! San Panò, è assolutamente il mato! Goffredo, Nazareno, fermi, chi si compra? Cori fa presto, Paolo, che ho una bestia! Maledetti sti vagabondi, singoli! San Panò! E che ha il corteo? Stavona, stavona, Gersonina!